Quindi solo la genialità di Raffaele si è riuscita, con i cartoni ne è stata testuta una serie che sta all'oreto, una serie che sta a Mantua, poi copre il re in Inghilterra e li troviamo in tutti i palazzi inglesi, perché il re in Inghilterra fece la manifattura di Mortlake che cominciò a produrli avendo i disegni. Quindi sono stati veramente gli impolvinatori della cultura vittorica europea, ma anche se non c'era il cartone, per esempio questo interizioso dipinto che è la visione di Ezechiete, è alla base dello stupendo arazzo che viene dalla granca di Sant'Ilde Monzo, che è una delle residenze reali spagnoli dove c'è questo meraviglioso museo di Arazzi, che ci hanno prestato proprio questo che non è solo disegno di Raffaele, ma di un artista che copia Raffaele. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.